Musica Passano le giornate e il Cagliari non vince neanche stavolta Ogni pareggio sono due terzi di sconfitta Perché con i tre punti non possono essere giudicati diversamente Quest'oggi le cose si erano messe decisamente bene Perché la squadra cagliaritana è passata in vantaggio per appena due minuti Con quella che era stata peraltro la scelta iniziale di La Padula Nuova rispetto al passato 14esima formazione diversa in 14 partiti ufficiali Oggi Billico in campo Proprio lui ha il calcio di punizione che ha permesso il salto di La Padula Che sembrava un altro Che era da staccare di testa per mettere la palla in rete Sembravano i presupposti di una partita diversa Di una rivoluzione anche tecnica E invece col passare i minuti ci si è resi conto Che il Cagliari non ne ha cambiato poi così tanto Tentava di tenere il campo Ma la squadra ospite, la regina Giocava decisamente meglio Con movimento senza palla Con intrecci, con sovrapposizioni Che nel Cagliari stentiamo a vedere Il pareggio è arrivato ancora su calcio piazzato Ed è stato un errore della difesa anche in questo caso Perché Gagliolo ha staccato indisturbato quasi Perso da Macumbu ma anche alle spalle di Altare Che lo ha lasciato arrivare Senza che si rendesse conto Che il compagno non lo aveva più addosso Per poterlo mancare Una disattenzione difensiva Così come lo era stato probabilmente anche quella Del gol di La Padula E poi il resto Una partita giocata con ciascuno con le propie armi Abbiamo detto di una regina Che finché ne ha avuto L'ha messa sul piano tecnico Con moltissimi scambi in mezzo al campo Con una partita che è stata permessa a giocare In stile inglese Contratti che non venivano fischiati Se non con evidente fallo E alla fine col passare dei minuti Anche perché il ritmo era sostenuto Hai venuto fuori il Cagliari L'aggressività, la voglia, la combattività Nel tentativo di vincere la partita Tanta buona volontà Ma non basta nel calcio Nel calcio la buona volontà non si associa A quello che abitualmente bisogna fare Per vincere le gare E cioè cercare dalle persone Di ottenere il massimo E ancora una volta abbiamo visto Che Liverani è andato per la sua strada Ha insistito con il solito modulo Con i tre attaccanti Forse inizialmente un pochino Li ha fatti arretrare rispetto Alla linea del primo attaccante Portandoli un po' verso il centro Le cose non stavano poi andando così male Ma poi ha riportato tutto come prima Viola in mezzo al campo Con i due interni Rog e Nandez E quando si è trattato di cercare Di trovare nuove soluzioni Non abbiamo visto nulla che abbia Modificato l'assetto in campo Se non un momento in cui È sembrato quasi comparire il trequartista Dietro l'Uvumbo e la Padula E sembrava essere quasi l'occasione Anche per vincere Insomma alla fine il risultato Non può soddisfare Il gioco è piaciuto solamente Per la buona volontà nel secondo tempo Perché il gioco poi di fatto Non ce n'è stato Si va avanti andando ogni volta A sperare che quello possa essere Il segnale positivo Da cui ripartire Ma le giornate passano E la classifica latita Il commento a caldo È giunto alla quinta edizione E quest'anno Oltre al web Ci potrai vedere anche in tv In cinque anni Tante aziende ci hanno scelto Diventa anche tu Partner del commento a caldo E segna un goal fondamentale Per la tua azienda Chiamaci O mandaci un messaggio Whatsapp Al 335 699 1693 Alla quinta Alla quinta Un reflexo Tutorial Alla quinta Au чего Alla quinta Grazie.